Abitavano in maniera del tutto abusiva all'interno dell'ex mercato Orto Frutticolo in via Pisacane ad Arezzo, nonostante un recente sgombero messo in atto dalla Polizia Municipale Aretina. Adesso il costore di Arezzo, Bruno Failla, ha emesso sei fogli di via obbligatori dal territorio comunale e il divieto è di farvi ritorno per tre anni nei confronti di due donne e quattro uomini. Alcune settimane fa sul posto era intervenuta la Polizia Municipale, che aveva sgomberato l'area e denunciato il gruppo per occupazione abusiva di immobili pubblici in quanto l'edificio è di proprietà del comune di Arezzo. La divisione anticrimine della questura, dopo aver accertato che alcuni dei sei avevano alle spalle arresti per spaccio di stupefacenti nelle zone sensibili della città e che altri risultavano invece pregiudicati per altri reati, ha valutato la sussistenza dei presupposti di pericolosità e ha disposto così prevedimenti di allontanamento dal territorio comunale. In caso di inottemperanza all'ordine di allontanamento, i sei saranno successivamente denunciati all'autorità giudiziaria. Da tempo comunque i residenti della zona chiedono la riqualificazione dell'area. È una delle zone più belle, non dico una delle migliori, ma se fosse recuperata con villette e giardini potrebbe rendere davvero graziosa questa zona, che altrimenti è fatta a mosaico. Era bello una volta, a miei tempi. Era un bel locale, perché si deve buttare via la roba così.